Eccoci amici e amiche carissime, una santa serata a tutti, a me Maria, nuova puntata di questo ciclo di catechesi sulla sana dottrina cattolica a distanza ravvicinata per chi segue direttamente dalla puntata precedente, purtroppo a volte capita che gli impegni pastorali di parroco mi costringono a fare un po' di strane la parotomie con gli orari, le dirette grazie a Dio sono un po' più fluide, un po' più flessibili e quindi chiedo perdono però cerco di gestirle perché a quello che mi arriva almeno per questo ciclo di catechesi è gradita la cadenza settimanale che sto cercando di conservare anche con qualche attenzione, abbiate pazienza anche la settimana prossima ci sarà anche piccolo problema perché non ci ho ancora pensato ma lunedì prossimo è la vigilia dell'immacolata se non ricordo male, è il 7, ci sarà la veglia, l'8 e martedì vediamo un po' insomma perché tanto forse con con le chi lo sa con con il coprifuoco forse si può andare in diretta anche martedì comunque va bene chiuse dei preamboli insomma che non interessano poi troppo passiamo agli argomenti di oggi perché stiamo affrontando il bellissimo tema dei dieci comandamenti e ci sono ancora delle cose molto importanti molto importanti e pur diversamente molto attuali da affrontare che sono anzitutto tanta la sfera di quei comportamenti che offendono Dio e che vanno sotto il nome di superstizione e occultismo spiritismo quindi tutto quanto il fenomeno della superstizione in senso ampio e poi dell'occultismo un po' più in senso stretto cioè quei comportamenti con cui le persone cercano di andare a invadere attraverso il ricorso alle arti magiche o addirittura il ricorso diretto agli spiriti malvagi i campi che il nostro signore ci ha interdetto la conoscenza del futuro la manipolazione insomma degli degli eventi della storia eccetera eccetera questo è un è un campo di indagine poi c'è un altro non meno importante che sono i peccati contro le tre virtù teologali la fede la speranza e la carità in parte li abbiamo visti perché già per esempio quando abbiamo parlato dell'ateismo e dell'indifferentismo evidentemente questi sono peccati formalmente contrari alla fede no ma per esempio tra i peccati contrari alla fede si annoverano le eresie e gli errori contro le verità di fede poi sono i peccati contro la carità soprattutto quelli che ledono la comunione ecclesiale cioè gli scismi la rottura dell'unità ecclesiale poi ci sono i peccati contro la speranza e dentro la categoria dei peccati contro la speranza rientrano molti se non tutte le tipologie di peccati contro lo spirito santo c'è un campo di azione sono abbastanza grande bisogna scegliere quale dei due andare per primo insomma il primo che mi era venuto in mente insomma ripensando c'era appunto quello che riguarda l'invasione delle sfere riservate a dio oppure tutto quanto il mondo della superstizione quindi iniziamo da questo allora diciamo per per introdurci in questo mondo noi dobbiamo capire per esempio in che senso la superstizione offende dio la superstizione è il ricorso il credere a tutta quanto una serie di sciocchezze inerenti al fatto che qualcosa qualcuno o qualche situazione possa come si dice nel linguaggio comune portare fortuna o portare sfortuna si tratta di cose ecco perché questo è un peccato grave contro il primo comandamento sotto due punti di vista primo perché è una degradazione della umana intelligenza che il nostro signore ci ha dato perché pensare che se io tocco ferro d'accordo se mi attraversa la strada il gatto nero se tocco ferro porta bene se mi attraversa la strada il gatto nero porta male se cade l'olio per terra porta male se passo sotto la scala porta male se invece metto il ferro di cavallo porta bene se porto il corno porta bene insomma adesso a prescindere da alcune cose ricordo che nella prima domenica d'avvento questo è un tema a me molto caro il nostro signore gesù cristo nell'anno b abbiamo letto ieri ci dice fate attenzione quel fate attenzione appunto l'atteggiamento della della vigilanza dello stare svegli si può diciamo anche come dire dilatare un po come concetto e io amo dire alle persone per favore cercate di pensare riflettete fate silenzio fatevi presenti cioè il modo per uscire da tante gabbie anche da tante forme di vita completamente astrusi è la capacità di tornare su noi stessi e metterci a riflettere un attimo dico ma ma può da ma può essere ma tu ci cioè ti ti pare una cosa sensata pensare che la tua vita dipende dal gatto nero dimmi tu capito c'è quando un essere umano pensa una cosa di questo genere che cosa deve pensare o se fai qualche gesto apotropaico no quando ero piccolo tra i compagnucci si diceva che se passi quel se passa il carro da morto se non c'è la barra dentro devi fare un gesto apotropaico perché altrimenti il prossimo andare dentro la barra sarai tu cioè guardate che c'è gente come dire che queste cose e ci crede sul serio nel senso le scaramanzie o le altre cose allora questo è una degradazione dell'umana intelligenza ma è anche una offesa a dio in che senso perché le cose nella vita vanno bene o vanno male non a seconda se tu tocchi ferro o se te passa la strada il gatto nero ma a seconda che tu vivi nella benedizione di dio o nella maledizione di satana questo è cioè quello che l'uomo intelligente deve cercare di fare è vivere sotto la benedizione di dio è vivere una vita benedetta guardate che noi non possiamo instaurare rapporti di causalità che significa non possiamo mai come dire conoscere quali come dire conseguenze negative possano avere ingenerato nella vita dei singoli certi comportamenti non lo sappiamo però quando in una vita diciamo così cominciano a moltiplicarsi come dire disgrazie eventi negativi cose brutte senza precipitare le situazioni perché a volte insomma nella bibbia c'è anche il caso di job quindi non si possono fare generalizzazioni a priori però dobbiamo chiederci ma io sto vivendo una vita diciamo così nella benedizione sto vivendo vicino al signore sto pregando pregando noi non siamo superstiziosi ma noi chiediamo in tutto e per tutto aiuto al signore protezione dal signore benedizione dal signore c'è chi è scaramantico per esempio in questo in questo ambito diciamo così di analisi entra oltre al discorso sacramentale d'accordo perché per vivere in grazia di dio abbiamo visto la volta scorsa bisogna celebrare bene e vivere fruttuosamente oltre che lecitamente i sacramenti della nuova alleanza ma c'è tutta quanta l'ampia gamma dei sacramentali dei sacramentali noi non portiamo addosso gli amuleti d'accordo o i quadrifogli al collo o i corni io racconto sempre un aneddoto tanto lo racconto in forma anonima è successo ormai vent'anni fa insomma io comincio a crescere una certa età sto a fa vecchierello insomma no mi ricordo ero seminarista stavo in servizio alle vasche di Lourdes si presenta una persona sapete che quando c'è a fare il bagno alle vasche di Lourdes bisogna togliere i vestiti quindi questo c'aveva al corno una catenina dove c'erano attappesi un crocifisso e un corno allora io vi ho il piccolaggio di dirgli senti fratello mio qui c'è un piccolo problema che di questi due uno è di troppo o te fidi del crocifisso o te fidi del corno e poi tra l'altro gli spiegai anche l'avevo letto in uno dei libri di padre Amort che quella cosa innocente che sembra un cornetto è un cornetto come certa come dire come dire scaramanzia diciamo campana non vorrei offendere nessuno ma Totò insomma si era reso abbastanza famoso con queste con queste cose no sembrerebbe una cosettina innocente tranquilla ma il corno in realtà questo si trova scritto sui libri di padre Amort io adesso a suo tempo è una come dire è un simbolo che fa direttamente riferimento al corno del caprone insomma quindi che non è certamente il giochettino scaramantico è qualcosa di molto più grave d'accordo e addirittura credo di ricordare che padre Amort addirittura raccontava di casi di possessione le cui porte erano state aperte dal corno portate al corno io ho detto tutte queste cose a sto dirci se no gli prendevano l'infarto gli dissi soltanto dico guarda tra questi due uno è di troppo perché capito cioè come va mettere vicino al crocifisso al corno vedete anche qui no questo fratellino ha ragionato secondo noi no perché noi facciamo le cose così facciamo le cose tanto per farle cioè mettere davanti allo specchio guarda questa cosa che te pende e chiediti ma chieditelo tu c'è bisogno che te lo dico io io l'ho fatto semplicemente ragionare ecco questo è il grande compito penso di noi sacerdoti non possiamo sostituirci alle coscienze delle persone né tantomeno a Dio però facciamo un grande servizio a mio avviso se riusciamo a far riflettere le persone a provocare riflessione perché poi il bene nel nostro cuore noi siamo stati creati da Dio c'è capito siamo noi che purtroppo agendo in maniera sconsiderata ci come dire priviamo della debita riflessione insomma per farla breve questo giorno dopo l'ho incontro qualche giorno dopo come io mi ero pure scordato per strada a Lourdes cioè la camicia si apre la camicia dal collo era rimasto al collo soltanto il crocifista dice hai visto? ho tolto il corno io ho detto bravo fratello mio ottima scelta era tutto contento tronfio impettito insomma perché aveva tolto il corno quindi questo per far capire questa come dire questa questa tipologia noi non andiamo a ricorrere né alla scaramanzia né all'oroscopo né a tutte queste stupidaggini qua né alle idee strane noi cerchiamo la benedizione di Dio un oggetto sacro portato addosso non basta attenzione perché poi può succedere che la scaramanzia si trasferisca diventi scaramanzia a soggetto sacro d'accordo esempio pastorale da parroco non vi dico in quale parrocchia non in questa quindi altrove sai oggi capito a un prete che quando io ci vado a benedire le case vado non soltanto a benedire le case anche a visitare le famiglie lo faccio ho sempre fatto tu suoni c'è qualcuno che non ti fa entrare di questi tempi e non necessariamente testimoni di Geova oppure da queste parti ci stanno altre strane sette insomma neonate che non fanno entrare i sacerdoti ma anche battezzati chiamiamoli così no poi c'è la categoria dei dubbiosi che faccio lo faccio entrare o lo faccio entrare al prete c'è chi ha paura che tu gli chiedi soldi d'accordo purtroppo io ho mai chiesto un centesimo non sono da benedire le case mai a nessuno questo lo posso dire in coscienza davanti a Dio e chi sta in dubbio dice ma io lo faccio fa io lo faccio fa allora qualcuno ti dice vabbè va entra che tanto la benedizione sicuramente porta bene attenzione porta bene allora è chiaro che questo approccio con le benedizioni con i sacramentali è un approccio certamente assolutamente riduttivo e che diciamo così se assolutizzato può addirittura diventare quasi fuorviante d'accordo oppure che ne so tante situazioni no che ti intercettano come parlo io sapete ma arrivano ogni tanto telefonate da varie poste di mezzo mondo dice padre 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 c'è mio figlio che gli dovresti mandare una bella benedizione dico che hai fatto che è una vita è tutto distrutto è tutto fatto matrimonio sfasciato non direi madritta uno ha perso il lavoro a destra allora gli dico certo vi la mando molto volentieri la benedizione dico ma questo sta in grazia di Dio sta vicino al Signore sono 30 anni che non si confessa io ti mando tutte le benedizioni che ti pare per carità lungi da me negare anche perché le benedizioni alle persone non c'hanno nessuna controindicazione si possono dare a chiunque però poi gli dico subito guarda che questa benedizione è come se tu te hai un aspirina o un malato di tumore capito cioè non pensare cioè c'è qualcuno purtroppo che tratta gli oggetti sacri come se fossero amuleti e le benedizioni cosiddette come se fossero atti di stregoneria mi si perdoni insomma questo termine spero che si capisca il concetto che voglio capito cioè che significa cerco dalla benedizione la soluzione di tutti quanti i mali che c'ho questa è una cosa assolutamente fuorviante d'accordo perché la benedizione ti aiuta come dire è una qualcosa che completa una realtà che già c'è in atto cioè una tua vita di vicinanza al signore che però chiede di essere intensificata al massimo livello anche per proteggerti forse lo diremo già questa sera da possibili attacchi del male che devono trovare come dire un'armatura bella completa non devono trovare spiragli e porte d'ingresso questo va bene ma la benedizione l'oggetto benedetto il sacramentale non si sostituisce alla vita di grazia né risolve i problemi legati ad un approccio del tutto inesistente o comunque assolutamente carente con la fede i sacramenti della fede e la vita di fede d'accordo quindi spero che questo detto questo però i figli di Dio i sacramentali li usano perché non credono in ciò che porta bene o in ciò che porta male ma sanno che se Dio ha istituito e nella Chiesa ci sono queste cose quindi oltre ai sacramenti anche questi strumenti di benedizione e di grazia che sono appunto i sacramentali che sono una montagna insomma sono dei segni che trasmettono la grazia come dire non con la stessa forza con la stessa efficacia non soprattutto con la stessa come dire inesorabilità e oggettività mi si passi questo termine dei sacramenti perché sacramentali si insegna in teologia funzionano ex opero per antis cioè sono tanto più efficaci quanto più vive la fede sia di chi li amministra che di chi li riceve a differenza dei sacramenti in cui mi raccomando la fede come dire non tocca l'oggettività del sacramento perché operano ex opere operato quindi non ex opere operantis allora dentro questa cornice allora via la superstizione ma dentro apriamo le porte all'uso dei sacramentali sono tanti io mi limito a citare i principali per esempio qualche giorno fa è stata la festa il 27 di novembre è stata la festa della medaglia miracolosa se la madonna è scesa dal cielo dicendo fai coniare una medaglia gliela fai gliela mostrate il fronte e il retro e dicendogli chi porterà questa con fede attenzione riceverà grandi grazie allora portatela mettitela compratela vai dal sacerdote fattera a benedire e portala addosso il crocifisso per noi è un onore portare il crocifisso al collo la corona del rosario benedetta purtroppo questo gesto come ben credo molti vedano molte volte è profanato perché oggi è una moda e a volte insomma si vedono pendere da certi colli insomma dei rosari che poi vanno a terminare in zone specialmente femminili che sarebbe bene mantenere abbastanza riservate ma che invece diciamo così risaltano a fianco del rosario mi si perdoni insomma questo questo sarcasmo un pochino amaro no? ecco quindi che brutte che brutte cose insomma quindi è chiaro che quello non è un bel gesto insomma per carità il rosario è sempre rosario ma bisogna anche portarlo con una certa con una certa dignità con un certo decoro no? ecco quindi c'è la medaglia di San Benedetto che non molti conoscono anche quello è un sacramentale molto molto protettivo perché la medaglia di San Benedetto adesso non ci posso fare una catechesi a parte ma contiene incastonati tutte quante alla serie una serie di acronimi quindi con tutte quante le iniziali di queste frasi che sono frasi imprecatorie contro il diavolo e che servono a mantenere lontano e poi dentro casa dentro casa avere un crocifisso avere un quadro della Madonna della Sacra Famiglia di nostro Signore Gesù Cristo di un santo è certamente una cosa che male alla casa non gli fa insieme alla benedizione che ti porta al sacerdote viceversa tenere in casa schifezze si vedono i giro schifezze io la cosa che raccomando togliete dalle case se volete un consiglio poi fate come volete insomma corni ferri di cavallo immagini oscene quadri oscene sculture oscene adesso qui non si tratta di andare a violentare le coscienze ma un'immagine oscena un nudo una scultura oscena come dire esporlo quindi tenerlo esporlo è senza nessun dubbio peccato mortale qui non è questo cioè uno può ribellarsi o non ribellarsi ma su questa materia non cioè uno può non saperlo però come sacerdote qui non si tratta di una cosa come dire incerta fa un male enorme ogni volta che tu lo vedi fa un male enorme immagina se un bambino cresce vedendo quelle cose e fa un male enorme a chi entra dentro casa tua io mi sono trovato non poche volte insomma pensate il sacerdote entra dentro una casa devi fare una benedizione fa finta di non vedere perché che cosa che mi metta a fare lì in diretta mi metto a dire che faccio quindi capisco che le persone non se ne rendano minimamente conto però tutto quello che è cattivo e che è malvagio in una maniera a noi misteriosa insomma per noi non conoscibile perché le cose della fede sia nel bene che nel male rimangono sempre ammantate nell'ombra nel mistero nel non perfettamente definito ma quella cosa sicuramente beneficio a quella casa non la porta questo è sicuro d'accordo cosa porti di male non siamo in grado di determinarlo ma che sicuramente non porti niente di bene questo non ci piove questo d'accordo nelle nostre case certo la nostra casa non è che deve diventare la camera di un sacerdote un sacerdote insomma non è detto insomma che è anche bene magari in una casa comune di una famiglia diciamo laica non esagerare d'accordo nella nella proliferazione insomma di perché si corre poi il pericolo magari se viene un ospito o qualcuno di dare un messaggio come dire distorto insomma di qualcuno che pensa questi sono fuori da destra insomma ci stanno 4.000 immagini sacre insomma in 40 metri quadri di casa quindi con la dovuta diciamo così sobrietà e moderazione però certamente quelli devono essere benvenuti nelle nostre case poi abbiamo i sacramentali classici insomma l'acqua benedetta in parola l'uso dell'acqua benedetta di cui Santa Teresa era devotissima la chiesa nella sua liturgia nella notte di Pasqua distribuisce le bottigliette d'acqua benedetta ora purtroppo l'acqua benedetta è sparita con questa cosa Pasqua l'anno scorso ci sono state celebrazioni nelle acque santiere purtroppo l'acqua santa non ci può stare bisogna andare da qualche parroco per chi lo desidera ma l'acqua santa farsi un segno della croce con l'acqua santa non è uno scherzo ma lo stesso segno della croce se uno apre l'inchiridion dell'indulgenza l'inchiridion della chiesa cattolica dell'indulgenza solo fare devotamente il segno della croce dicendo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo c'è l'indulgenza parziale d'accordo perché solo questo segno cioè già questo è un come dire è un è un segnale appunto segno ecco dato in faccia agli uomini anche in faccia ai diavoli che io desidero appartenere al signore voglio la sua benedizione e voglio stare con voi quindi insomma l'acqua si usano poi in casi specifici il sale l'olio specialmente che combatte i diavoli queste cose le sa bene in casa si può tranquillamente accendere in segno di devozione alla Gesù alla Madonna un cero benedetto oppure a parte il fatto che c'è anche un effetto diciamo così accidentalmente molto gradevole bruciare un pochino di incenso benedetto o anche esorcizzato non sono cioè tutte queste cose appartengono al patrimonio della Chiesa cioè che cosa ho detto io quando abbiamo cominciato questo ciclo di catechesi noi abbiamo un tesoro prezioso abbiamo un patrimonio dentro la Chiesa Cattolica abbiamo un patrimonio di verità e un patrimonio di grazia oggi sia l'uno che l'altro mi sembra che in tante situazioni in tante circostanze siano abbastanza trascurati non ci si pensa capito perché si va ad attingere come dice il profeta Geremia a fonti marce a cisterne screpolate che non contengono l'acqua i figli di Dio che vanno appresso insomma a tutte queste cose insomma a tutte queste queste stupidaggini e non curano o trascurano le cose belle sante e buone che il Signore ha messo in disposizione una montagna di benefici vengono a tutte quante queste cose una montagna proviamo a chiederci sapevo queste cose se io ho sentito adesso sapevo c'ho qualche oggetto benedetto a casa ce l'ho addosso ce l'ho la medaglia miracolosa ce l'ho la medaglia di San Benedetto ce l'ho il crocifisso ce l'ho un rosario benedetto guardate tante cose un quadro una statua un'immagine della Madonna tutte quante benedette uso l'acqua santa faccio i segni della croce uso l'incenzo capite sono tantissime le cose se la Chiesa nella sua tradizione perché ci sono delle preghiere ha sempre come dire caldeggiato ha suggerito ai fedeli di usare tutte queste cose il motivo ci sta perché il male esiste ma dal male non ci si protegge con la scaramanzia o con la superstizione ma portando al top i mezzi di difesa che il nostro Signore ci ha donato quindi oltre ai sacramenti che sono sempre la cosa primaria e alla preghiera anche l'uso di tutti questi si chiamano sacramentali qui con fede non facendoli diventare superstizione sacra come ho già detto e come ribadisco non pensare che queste cose come dire a modo di una scaramanzia tengano lontano il male senza che da parte mia non ci sia un cammino di fede che sto percorrendo è una vita cristiana che sto cercando poveramente umilmente ma anche come dire seriamente di vivere d'accordo? questa era la prima cosa poi c'è un altro ambito che è l'ambito del cosiddetto occultismo in senso ampio nella sagra scrittura noi abbiamo dei casi per esempio il gravissimo peccato di Saul Saul andò ad Endor dopo la morte di Samuele questo si legge nei libri di Samuele e nei libri dei re che morto Samuele Saul che stava cadendo in disgrazia doveva ricevere una consultazione nessuno gli rispondeva non sapeva che cosa fare allora si è rivolta ad una negromante per evocare lo spirito di Samuele una cosa gravissima tra l'altro poi il testo biblico dice che Samuele compare e dice chi ti ha autorizzato a venirmi a disturbare guarda che a te Dio ti ha rigettato quindi è inutile che tu ti metti a fare perché se ti avesse voluto dare attenzione alla risposta che che gli dà se avesse voluto ti avrebbero mandato i profeti a dirti ma non ma non te li ha mandati perché con te ha chiuso quello che hai fatto tu sei stato rigettato dal dal Signore quindi è inutile che forzi la mano ecco qui il forzare la mano allora la negromanzia andare a invocare i morti voi sapete che oggi ci sono dei fenomeni adesso vado un pochino a caso no le scritture automatiche i registratori quindi cosa succede una persona ha perso una persona cara e cerca di fare il possibile per entrare in contatto con lei anche le esitute spiritiche in teoria servirebbero a questo ora questa cosa non si può fare perché non si può fare perché il nostro Signore non vuole che si faccia perché si scatenano si possono scatenare parte il fatto che noi non sappiamo cosa facciamo con queste cose qui se andiamo a disturbare delle anime che cazzo una stanzanta pace se andiamo ad invocare o a scomodare potenze negative diavoli o cose del genere allora quello che c'è nell'aldilà è la sorte dei nostri cari il Signore l'ha lasciata coperta dal manto della fede questo manto lui lo può sollevare però per farti un regalo però un conto che lo solleva lui un conto che tu lo prendi e lo forzi esempio un conto che tu vai dal medium per fare la seduta spiritica o la scrittura automatica o il registratore un conto che il nostro Signore ti suscita una natuzza evolo tutti quanti la conoscono io anche il mio amico Francesco la mamma del mio amico Francesco ha avuto a che fare con natuzza evolo in maniera assolutamente sorprendente ma quello è un dono di Dio però se Dio liberamente suscita un carisma in un suo figlio o in una sua figlia volto a portare consolazione e conforto a qualcuno dei suoi figli anche circa alla sorte dei loro cari noi ci mettiamo in ginocchio e ne ringraziamo il Signore questo è un regalo che lo fa Dio se non c'è un intervento divino nessuno deve andare a forzare la mano è la stessa cosa sapete cosa dicono i maestri di spirito se tappare la Madonna beato te bisogna fare prima discernimento se la Madonna ti è apparsa ma un'apparizione è un'iniziativa divina d'accordo noi non possiamo forzare un'apparizione della Madonna non soltanto non possiamo forzarla ma tu neanche lo devi chiedere assolutamente perché le cose straordinarie non soltanto a parte che non le possiamo forzare perché non siamo in grado di farlo ma non le dobbiamo neanche chiedere però per esempio c'è un altro ci sono degli ambiti per esempio il regno dei morti è uno poi c'è il futuro conoscere il futuro secondo ambito chi è che si fa leggere le carte chi è che va dal mago di turno chi vuole conoscere il futuro ma il futuro altro punto è un'altra cosa che la divina bontà qui stiamo parlando del primo comandamento che la divina bontà e la divina sapienza ci ha occultato quando Dio ci occulta in questo mondo qualcosa ecco perché i peccati contrari sono gravi contro il primo comandamento domanda sempre la solita domanda quindi rifletti ragiona pensa se Dio questo questo torniamo nell'Eden e c'è la stessa identica cosa se Dio ti occulta una cosa quindi dice non è bene per te saperla ce l'ha torto o ce l'ha ragione o vogliamo fare come Dio e Eva dice che ha fatto ti ha occultato l'albero della coscienza del bene e del male aaaah e questo sarebbe uno che ti vale bene ti ha occultato l'unica cosa degna di essere conosciuta e saputa la cosa più bella che ci sta cantò il diavolo ai nostri progenitori se uno si mette a sfondare queste porte sta dicendo a Dio tu me le hai occultato queste cose quindi queste sono cose cioè la conoscenza del futuro a chi appartiene al Signore la conoscenza del regno dei morti di cosa ci sta nell'aldilà a chi appartiene al Signore in questa vita il Signore vuole che su queste cose noi facciamo un atto di fede ci abbandoniamo nelle sue mani diamo gloria a Lui il futuro Signore mio io non lo conosco ma tanto il futuro che me lo vivrò vivrendo perfettamente ogni giorno il mio oggi il Vangelo a ciascun giorno basta la sua pena prenda la sua cosa ogni giorno e mi segua basta d'accordo per quanto riguarda il futuro e per quanto riguarda quello che c'è dall'aldilà mi basta quello che mi dice la Chiesa c'è l'inferno per chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito c'è il purgatorio per chi muore in stato di grazia pur avendo dei peccati da espiare e c'è il paradiso per chi muore da santo o da martire basta non occorre sapere altro non occorre di per sé sapere altro poi c'è un terzo ambito di applicazione e qui si va nelle scienze sataniche purtroppo anche queste disgraziatissimamente diffusissime cioè il provocare il male il fare il male non direttamente quindi attraverso che ne so un omicidio una per menare qualcuno per cuoterlo diffamarlo no ma colpendolo attraverso il ricorso e l'invocazione del male degli spiriti del male e qui c'è il cosiddetto spiritismo che è una cosa diversa dall'occultismo cioè si invocano gli spiriti perché facciano del male questo è un fatto molto reale perché purtroppo e guai a chi non ci crede i padri della chiesa chiamavano il diavolo la scimmia di dio che significa significa che il diavolo imita al contrario però infatti conoscete tutta quanta la simbologia satanica è tutto quanto un rovesciamento noi abbiamo le candele bianche e loro neri la croce dritta e loro storta d'accordo il colore dei santi è il bianco e il loro è il nero eccetera eccetera no? ecco quindi il diavolo la chiamavano la scimmia di dio quindi imita al contrario quello che vede fare dall'altissimo e essendo un puro spirito quindi un ente di gran lunga superiore all'essere umano lui ha il controllo e il potere su una serie di forze che noi non conosciamo ma loro sì che è infinitamente inferiore infinitamente inferiore a quello che dio ha ma di gran lunga superiore al nostro e quindi attraverso la provocazione di certe cose attraverso alcuni rituali che sono la pantomima al contrario dei nostri quindi dei nostri sacramenti e sacramentali questi fanno del male al prossimo e l'esperienza basta leggere io sto su questa cosa qui in parte ho letto mi sono fatto una cultura sui libri di chi è stato a contatto con queste cose le ha conosciute bene ma in parte alcune cose mi sono capitate a vario livello in varie circostanze durante la mia vita di sacerdote quindi attenzione e qui entra il discorso della vita perché se tu se qualcuno va a farti del male se una persona ti odia va dal satanista di turno e ti comincia a dire questo voglio 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 che tu gli faccia del male devi fargli una fattura a morte devi fargli questo io la prima volta che sentivo dire queste cose quando ero giovane mi veniva il nervoso mi raccordi che fattura a morte il malocchio il maleficio ma che stavano nel medioevo insomma ero un giovanotto insomma brillante a scuola insomma studente universitario quando inoltre leggero queste cose qui l'ho raccontato tante volte poi senti che padre Amort era il grande autore di questi libri era laureato in giurisprudenza come mi stavo orando e dico ma come è lavorato in giurisprudenza questa persona intelligente è una persona colta non è un credulone come fa a scrivere queste cose come fa a scrivere queste cose le scrive perché questo l'ha visto con gli occhi suoi io non amo raccontare non racconterò insomma tante cose ma vi assicuro che sono purtroppo vere è una realtà il mondo del male è una realtà come mi dico e se me lo fanno a me allora se te lo fanno a te bisogna vedere che cosa trovano capito perché anche alcune possessioni diaboliche scrivono i giurcisti dipendono da una cosa di questo genere c'è uno che ti vuole male va da una persona malvagia da una persona che è venduta al diavolo che ha servito che lo serve ci stanno i sacerdoti del diavolo purtroppo lo dico con estremo dolore ma è così e quello deve fare del male allora cosa dice Gesù nel Vangelo cosa trova dentro di te ecco questo la gente oggi non lo capisce io spero tanto non è che voglio spaventare nessuno la fede non si fonda sulla paura la fede si fonda sull'amore ma Padre Amort diceva purtroppo quando cala la fede aumenta la superstizione ma e calando la fede calano anche tutte quante le misure protettive che noi abbiamo se io sto in guerra non posso andare in giro così devo andare in giro con l'armatura se voglio andare in giro perché se c'è stata una freccia vagante e mi arriva addosso io non vedo si rimbalza sull'armatura d'accordo se sto in tempo di pace posso tranquillamente andare in giro normalmente adesso pandemia docet d'accordo sono le 22 e 15 adesso il numero di chi segue la diretta è un pochino aumentato perché sono entrati tutti quanti dentro casa quindi in circostanze straordinarie tu non ti puoi comportare come ti comporti ordinariamente perché sei a rischio vogliamo parlare della pandemia quanto stiamo a tribolare adesso d'accordo allora purtroppo nella vita interiore nella vita di fede noi a rischio siamo sempre perché purtroppo i nostri concorrenti cioè i diavoli lavorano 24 ore al giorno 365 giorni l'anno senza sosta senza ferie e senza dormire d'accordo per farci del male non scherzano cioè questa cosa ripeto non voglio mettere paura né terrorizzare nessuno ma questa cosa deve essere chiara allora che succede se io sto vent'anni senza confessarmi dimmelo tu che succede se io non faccio mai la comunione dimmelo tu che succede se io non prego mai ma dimmelo tu che succede se io non uso neanche un sacramentale ma dimmelo tu allora se nessuno se nessuno ti prende il matto e andate a fare qualche cosa di brutto puoi stare abbastanza tranquillo però attenzione ti torna comunque sempre indietro come un boomerang il male che tu compi perché il male è fabbrica di è fabbrica di morte d'accordo non c'è niente da fare purtroppo queste cose esistono c'è gente purtroppo malvagia speriamo che non sappiano quello che fanno speriamo che il Signore ne abbia pietà che il Signore li perdoni che il Signore li converta che faccia qualcosa ma queste cose ci stanno e purtroppo come spero che sappiate anche questo è inutile insomma dire che è un peccato carissimo per il primo comandamento ci sono purtroppo oggi anche dei poveri fratelli e sorelle che non so che cosa gli abbia detto la testa che anziché rendere culto a Dio danno culto al nemico danno proprio culto esplicito con tanto di consagrazioni di cerimonie di culti di rituali di cose di questo genere questo è una piaga un fenomeno che è nato ormai quasi duecento anni fa e che è tutt'altro che sopito ci sono anche in Italia sappiate centri io ho un amico che ci lavora è un amico sacerdote che lavora in uno di questi che monitorano in continuazione il fenomeno negli Stati Uniti sta a livelli molto 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 più gravi allora noi non abbiamo nessuna paura di queste cose zero d'accordo i figli di Dio di queste cose hanno paura zero se vivono da figli di Dio perché se io celebro la messa o tu fratello mio vai a messa tutti i giorni ma che ti fa tutto quanto il male che ti può scatenare addosso cioè una messa una messa una cioè una messa è una potenza assolutamente più forte di qualunque cosa malvagia che possa scatenartesi contro d'accordo cioè noi siamo col più forte noi siamo col vincente i sacramenti la preghiera cristiana i sacramentali che noi abbiamo stanno su un altro livello d'accordo se ben vissute d'accordo ma li vuoi vivere però li vuoi vivere cioè tutto sto patrimonio di grazie uno poi si trova in un mare di guai allora è chiaro che quando uno si troverà davanti al Signore magari in termini paterni amore della figlia mio cioè io capisco tu sei lamentato tante volte che ti sei trovato in un mare di guai e io ti pure capisco ma tu ti sei messo con tutto quello che io ti ho regalato con tutto quello che avevi a disposizione perché non l'hai usato perché non sei stato lontano dal male e non ti sei come dire riempito di bene che te l'avevo messo a disposizione è gratis di tutte le cose che ho detto non c'è se tu vai dal prete a chiedere l'acqua benedetta mica la paghi se vai a chiedere un sacramento mica lo paghi se devi pregare mica paghi pigli e ti metti a pregare non c'è è tutta a disposizione ti ho accorto è tutto nostro la chiesa è casa nostra questi tesori sono per noi sono per i suoi figli allora quindi il nostro signore dirà si figlio mio ti capisco ma ti rendi conto di tutto quello che ti avevo dato eh ma io non lo sapevo vabbè non lo sapevi però figlio mio facci picchia e informate un po' d'accordo il mio vescovo l'ho scritto ieri ho postato ieri invito a vederlo insomma chi non l'avesse fatto insomma sulla mia pagina di facebook ha fatto un bel messaggio di di natale dove diceva la vigilanza noi dobbiamo anzitutto riprendere e curare la preghiera ma curare anche la formazione della fede è figlio mio cioè non lo sapevi ma ti sei informato almeno un pochetto chi sta ascoltando per esempio queste cose che sto dicendo ma non perché le dico io ascoltate qualunque altra persona diversa da me che è più brava che è più santa cioè non sto parlando e non voglio parlare di me parliamo del contenuto di questa di questa di questa conversazione no e chi lo sta parlando in diretto lo farà indifferita sta curando di fatto la sua formazione speriamo che il signore massista e che non dica sciocchezze e che anziché aiutare le persone come dire a stare meglio non 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 dovessi andare aiutati io non voglio insomma io non voglio fare questo qui no a stare peggio però questo ti fa onore nel senso che tu stai informandoti e formandoti d'accordo poi puoi tranquillamente verificare tutte le cose che dico apri il carichismo della chiesa cattolica e se qualcuno trova qualcosa che contro la chiesa cattolica mi scriva scriva al mio vescovo faccia controllare i miei video faccia tutto quello che vuole perché se dovesse accadere Dio non voglia una cosa del genere qualunque azione fatta sarebbe fatta bene perché non ci da me d'accordo dire una virgola di diverso da quello che la chiesa vuole e insegna d'accordo quindi però questo è importante questo qui nel senso noi abbiamo un patrimonio un patrimonio questo patrimonio va va curato insomma quindi va 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 vissuto ecco cioè noi possiamo e dobbiamo vivere una vita questo è il senso della chiesa stasera benedetta nella benedizione e nella lode siamo ricolmati di bene queste cose stanno dentro la chiesa cattolica stanno dentro casa nostra stanno custodite nel grembo della nostra madre d'accordo sono a nostra disposizione ecco il signore non permetterà mai che queste cose vengano meno nella sua casa e nella sua chiesa mai ecco l'unica fatica è semplicemente andarle a prendere d'accordo ma non è una fatica pure se tu avessi che ne so 100 miliardi in banca devi andare a firmare per perché quei soldi ti siano messi sul conto tu insomma vabbè se ti fa fatica pure mettere una firma insomma quindi con un padrimano del genere capito quella è necessaria quella lì quindi non possiamo ecco allora ci sono chiudo ricapitoliamo di cosa abbiamo parlato questa sera allora ci sono delle cose che il nostro signore non vuole che noi conosciamo in questo mondo perché ne ha fatto oggetto di fede e di speranza non vuole che diamo credito a lui ed è anche anche quelli no perché poi c'è oltre alla cosiddetta magia nera c'è la cosiddetta magia bianca attenzione gli esperti dicono che bianca o nera caput si dice in Germania caput cioè romperla d'accordo quindi via ecco raus ecco e che cosa sarebbe la magia bianca mi serve a togliere in maniera diversa dal chiederlo a Dio una cosa negativa che c'ho addosso pensiamo per esempio ne dico una le pranoterapie per esempio che gli esorcisti dicono essere cosa da non fare per nessun motivo oppure altre cose che raccontano le persone anziane che facevano non ho bene ancora avuto come un intruglio per togliere il malocchio d'accordo ecco il intruglio per togliere il malocchio non si fa allora quando noi abbiamo un male noi sappiamo che un male di quelli che si chiamano fisici cioè non il male del peccato ma un male conseguenza quindi una malattia un'infermità una cosa non è il male assoluto per noi perché potrebbe essere una croce che il signore ci dà cioè una croce vuol dire che ti dà una sofferenza perché tu accettandola quella sofferenza provocherà procurerà a te delle cose buone per cui da ogni male anche fisico noi possiamo chiedere al signore ed è bene che lo facciamo la guarigione possiamo utilizzare anche tutte quante le risorse ordinarie di quelle che ci dà la scienza medica per essere sollevati dai nostri mali io ho un po' da tempo che sta carcassa insomma tra schiena spalle e tutte queste cose qua mi è toccato a fare un po' di fisioterapia uno ne fa quelle sono cose normali perché il signore vuole che la nostra salute possibilmente la custodiamo ma con i mezzi ordinari perché se poi il nostro signore una infermità non te la toglie tu dici fiat me la tengo signore mio me la tengo perché se vede consenso ce l'avrà andare a ricorrere a magie quindi a cose occulte anche per togliere il male è comunque una cosa che va contro la volontà di Dio a prescindere dal fatto che alcuni esorcisti affermano che anche in quel caso vengono smosse le forze del male le quali ti tolgono un male immediato perché poi ti presentano il conto ben più salato d'accordo questo è quello che dicono alcuni ma anche a prescindere da questa ulteriore considerazione il fatto in sé è comunque negativo perché noi in presenza di disgrazie di mali di difficoltà cosa facciamo ci mettiamo in ginocchio e chiediamo signore mio come facevano i malati con Gesù guariscimi dalla mia necessità guariscimi dalla mia sordità guariscimi dal tumore guariscimi dal coronavirus fai questo fai quella fai tutto quello che vuoi e ti supplico però sia sempre fatta la tua volontà e non la mia perché per noi il male assoluto filosoficamente sto dicendo una bestemmia perché il male assoluto non esiste ma per farmi capire cioè il sommo male meglio non è il tumore no neanche cose così serie il sommo male per noi è la perdita di Dio è la dannazione è la perdita delle anime questo è il sommo male nemmeno la morte fisica è il sommo male è la morte eterna è il sommo male e noi sappiamo dalla fede che anche quando Dio permette un male minore lo fa sempre anche se noi non capiamo perché non capiamo come perché la nostra intelligenza è distretta e limitata per impedire che ci colga o ci raggiunga o che incorriamo e cadiamo nel male sommo che è la perdizione allora i mezzi ordinari per liberarci dal male sì i mezzi straordinari e andare a evocare forze occulte che non sappiamo bene chi siano e da dove vengono per toglierlo no ecco d'accordo quindi questa era l'ultima cosa che mancava un po' alcune cose il signore non vuole che le conosciamo non vuole che interveniamo evocando forze balorde ovviamente mai per fare del male al prossimo e purtroppo molti lo fanno e qui abbiamo i mezzi di difesa che non sono le superstizioni ma è la vita di comunione con Dio e l'uso importante è riscoprire l'uso dei sacramentali ma non si devono evocare le forze occulte nemmeno a fin di bene o per togliere qualche qualche male Saul voleva dei consigli per rettamente agire ma se i consigli per rettamente agire tu li chiedi al signore nella nella preghiera se lui poi ti manda un profeta come fece con Saul fino a quando che c'è il bravo ragazzo lo ringrazi e se non te lo manda ti adegui ecco va bene ci fermiamo carissimi spero di essere stato esaustivo e ci sentiamo e ci aggiorniamo a Dio piacendo alla prossima puntata la settimana prossima vedremo poi seguitemi insomma come sempre chi vuole seguire le dirette segua la pagina facebook dove ci sono le comunicazioni sicuramente parleremo delle i peccati contro la fede la speranza e la carità come introdotto degli scismi delle eresie i peccati contro lo spirito santo e delle altre cose che riguardano questa materia una santa notte a tutti la mia benedizione a tutti a chi sta in diretta e a chi ci sarà indifferita Ave Maria